Ha senso di parlare di potenza sugli ecoscandagli e sulle sonde? Sembra una domanda banale. Uno dice, sì, la potenza sicuramente è una cosa importante, serve. Ma quanto effettivamente serve? Quanto importante è? E come va interpretata? Lo sapete che due sonde che hanno la stessa potenza possono avere prestazioni completamente diverse in mare? Sì, due sonde della stessa potenza e anche con la stessa frequenza possono avere caratteristiche completamente diverse in mare. E la potenza in questo caso c'entra veramente poco. In questo video andremo a vedere, ad analizzare le schede di alcune sonde. Cercherò di mostrarvi come si leggono le schede dell'Airmar per riuscire a capire meglio come lavora una certa sonda. E soprattutto cercheremo di capire quanto importante è la potenza. In quali casi è importante la potenza e in quali casi invece la potenza è assolutamente trascurabile, perché sono più importanti altre caratteristiche. Molto spesso la potenza viene interpretata come profondità massima. Cioè, un ecoscandaglio che ha una certa potenza, abbinato a una sonda che ha una certa potenza, è in grado di raggiungere profondità elevate. Questo è vero. Sicuramente un ecoscandaglio da 1 kilowatt va a una certa profondità, un ecoscandaglio da 500 watt o 300 watt va a una profondità inferiore e un ecoscandaglio da 2 o 3 kilowatt va a profondità ancora superiori. Ma bisogna stare attenti a non fare l'errore di pensare che la potenza serve solamente per andare più profondi. O meglio, che a parità di potenza noi, cambiando sonda, otteniamo gli stessi risultati. Non è così. Motivi per cui uno sceglie una potenza elevata. C'è chi deve andare a pescare molto profondo, sicuramente. Se abbiamo potenza da vendere, riusciamo anche a superare i mille metri. C'è chi ha bisogno di trovare dei mark a una certa profondità. Questi, per esempio, sono mark disegnati a 440-450 metri, probabilmente i pesci spada. C'è chi vuole avere una alta definizione sul fondo. In questo caso, per esempio, andiamo a vedere i mark di una paratura di pesca per il bollentino di profondità. Ma vediamo adesso di capire come va interpretata la potenza. Innanzitutto, le sonde vengono vendute con 300, 500, 600 Watt, 1000 Watt, 2000, 3000. Ma è un parametro che serve relativamente, perché dipende tutto dall'angolo e quindi dal cono della sonda. Ma non solo per la lettura, ma proprio per la pressione sonora che la sonda è in grado di dare e anche di ricevere quando è immersa nell'acqua e sta funzionando. Mi spiego meglio. Pensate ad avere una torcia in mano, una lampadina, quelle tascabili, con lo zoom sopra. Voi avete la possibilità di concentrare la luce in una certa zona, oppure tenere il cono molto ampio e allargare la zona di visione di illuminazione. Ovviamente, quando voi avrete il cono ampio, la luce sarà minore su tutti i punti della zona illuminata, però illuminerà una zona ampia. Il cono stretto corrisponde ad avere la stessa quantità di luce concentrata in una certa zona. Capite allora immediatamente che se io ho una sonda con un cono stretto, avrò tutta la potenza incanalata in quel cono e sarò in grado di andare quindi più profondo, più lontano. Se io avrò un cono largo, la potenza sarà distribuita su una zona molto più larga e quindi il risultato sarà che riuscirò ad andare meno profondo. Ovviamente, oltre che la potenza, ci sono altri parametri che bisogna tener conto. Innanzitutto, la frequenza operativa. Non si possono fare dei raffronti tra una sonda che funziona a bassa frequenza con una sonda che funziona ad alta frequenza. Le basse frequenze sono meno soggette all'attenuazione dell'acqua del mare, dell'acqua dolce ovviamente, e quindi sono in grado di andare più profondo. Le alte frequenze sono più soggette a questo tipo di attenuazione e quindi vanno meno profondo. Sulle basse frequenze, quindi, un kilowatt con un cono stretto, per esempio a 50 kHz, nel caso del monofrequenza, ma questo può essere utilizzato come sistema per qualsiasi sonda, anche ovviamente le CIRP, quindi un cono stretto su una certa frequenza andrà più profondo rispetto a un cono largo. Andiamo a vedere la schermata, la scheda audio che viene fornita dall'Airmar. Se la trova sul sito dell'Airmar, metterò un link in descrizione dove trovate tutte le sonde Airmar con i relativi diagrammi di lettura. Non preoccupatevi, sembra complesso, in realtà non ci servono tutte le informazioni, ma vi farò notare gli aspetti più importanti in modo che siate anche voi in grado di valutare la vostra sonda. So che sono argomenti che non sono proprio per tutti i pescatori, tanti dicono, ma sì, ma cosa me ne frega, però so che ci sono tanti, tra cui tanti anche miei amici, che invece sono un po' nerd, come lo sono io, e magari vogliono approfondire alcune cose. Va bene, andiamo a vedere allora questa sonda, queste caratteristiche. Qui ho preso il datasheet della B75H dell'Airmar, che è una sonda CIRP che lavora su un'unica frequenza, l'alta frequenza, a 600 Watt di potenza. Questi sono i grafici che sono quelli più importanti di questo tipo di sonda. E adesso vi dico come si leggono e a cosa corrispondono. Il TVR, questo qui, il primo di tre grafici, è praticamente la pressione sonora che riesce a esercitare questa sonda a un metro di distanza, in questo caso con un Watt. Ma a noi non interessa la potenza, non interessa neanche andare troppo nello specifico, non è importante per noi. A noi interessa capire come si leggono. Allora, TVR, la potenza quando viene emessa, quindi l'onda ultrasonica. RVR, questa invece è l'energia che riesce ad assorbire la sonda, al contrario, cioè, mi spiega, la sonda emette l'impulso, però dopo deve anche ascoltare quando l'impulso torna indietro. Bene, il primo grafico quindi corrisponde all'emissione dell'impulso, il secondo quando lo riceve di ritorno, il terzo è la somma dei due, che è tra l'altro il grafico più importante per noi, perché ci dice quanto effettivamente riesce a leggere questa sonda. È inutile avere una sonda che è buonissima a trasmettere, ma è assolutamente sorda quando deve ascoltare il segnale di ritorno. Bisogna fare una somma, bisogna avere una sonda che riesca a trasmettere in un certo modo, che riesca anche ad ascoltare altrettanto bene, la somma delle due cose, cioè l'emissione e l'ascolto, ti dà la curva che è effettivamente quella che ci permette di valutare questa sonda. Queste curve sono espresse in dB. Il dB è una forma, è una curva, un sistema logaritmico per misurare l'intensità di un segnale, di una pressione sonora. I dB non sono scalari, cioè non si può, un dB, 2 dB non vuol dire avere il doppio, da 1 a 2 non si ha il doppio. Se io ho 10 dB e passo a 11 dB, non ho il 10% in più di suono. Se io ho 10 dB e vado a 13 dB, il 13 corrisponde a due volte tanto il suono che avevo su 10. Se io da 13 vado a 16, ho di nuovo il doppio. Quindi, con valore 10, a 10 dB. A 13 dB ho 20, il doppio. A 16 dB ho 40. Con 6 dB in più, da 10 a 16, ho 4 volte l'energia che avevo nel primo caso. Casomai se non avete capito bene questo, tornate un po' indietro sul video. e riascoltatevelo. Fondamentalmente, vuol dire che quando aumentano i dB, anche solo di 2, di 3 o di 4, in realtà, vuol dire avere il doppio della potenza o della ricezione che si ha in quel momento del segnale, del target. Questo vuol dire che una sonda che ha, come in questo caso, un'attenuazione di 18 dB, leggiamo sempre il grafico FOM, dopo andremo a vedere meglio, rispetto a una che invece ne ha soltanto 15, vuol dire che quella da 15 è il doppio più sensibile di questa. Andiamo a vedere un'altra scheda. Questa è la B75L, è un 300 Watt bassa frequenza, e questa è la B150M, che è quella famosa, classica, che è la media frequenza, sempre da 300 Watt. Come vedete, i grafici FOM sono diversi. Qua ve li ho messi tutti insieme, così potete vedere bene le differenze. La B75H ha un praticamente, perde pochissimo segnale, siamo sui 18 dB. La B75L perde tanto segnale, siamo oltre i 30 dB. La 150M è una via di mezzo, arriva a circa meno 22, meno 23. Poi, come potete vedere, il discorso cambia a seconda delle frequenze. Ma non voglio entrare troppo nel dettaglio. È inutile che adesso andiamo a discutere sul fatto che a una determinata frequenza si riesce a andare più profondo, perché ho più potenza, e quindi riesco a andare meglio a profondità. Ok, tutto giusto. Intanto cerchiamo di capire, in senso generale, come funzionano questi schemi. Allora, è chiaro quindi che il grafico che si ottiene per le varie sonde è diverso tra una e l'altra. E la potenza, anche se magari applicata alle sonde è identica, nel risultato finale abbiamo delle differenze molto molto grandi. Abbiamo, magari, una sonda che riesce a andare più profondo o meno profondo a seconda di questo grafico. Ma torniamo un attimo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. è molto importante la frequenza su cui noi andiamo a lavorare. 300 Watt in bassa frequenza vanno molto più lontano che 600 Watt in alta frequenza o in media frequenza. E questo vuol dire che ancora non sono paragonabili questi grafici, perché noi dovremmo prendere in considerazione anche le frequenze, cosa che non si può fare. non si possono mettere quindi in paragone due grafici se lavorano su frequenze diverse, perché comunque il risultato nell'acqua sarà diverso. Allora, cosa ho fatto io? Ho recuperato le schede di due sonde che stanno lavorando alla stessa frequenza ed è la B265LH che ha questo datasheet qui e la B275LHW che ha questo datasheet qui. Qui le due sonde prendiamo soltanto in esame l'alta frequenza perché la bassa frequenza è uguale per tutte e due quindi non c'è da fare nessun tipo di paragone. Qui le due sonde hanno la parte alta frequenza diversa. Una ha un cono molto ampio che è la B275LH con la W finale e una ha il cono molto stretto che è la B265LH. Paragoniamo i grafici della potenza dell'alta frequenza delle due sonde. Ecco qua. B265 come vedete ha un rendimento molto alto. Guardate lì in mezzo arriva a meno 10 dB. Meno 10 vuol dire che veramente con un impulso di un watt recupera tantissimo. la B275LH WV che vuol dire cono ampio perde tantissimo a meno 30 dB. Questo vuol dire che non so 50 volte in meno forse anche di più dovrei fare il calcolo ma comunque un valore molto molto minore. E questo cosa è dovuto al fatto che l'energia della B275LH è spartita su un cono molto ampio. Infatti se noi andiamo a vedere i grafici che sono dietro che sono in questa parte qui sotto questo riguarda la B275 come vedete l'angolo il pattern di radiazione cioè quindi il modo in cui sviluppa l'impulso ultrasonico sia nell'emissione che nella ricezione è molto ampio e qui vi ho messo i due grafici a confronto la B265 ha un cono molto stretto quindi concentra l'energia in un cono molto stretto un'energia una pressione sonora molto forte la B275LH double view che vuol dire cono ampio wide distribuisce l'energia su un cono molto più ampio questo in termini pratici vuol dire che a parità di frequenza a parità di potenza sono tutte e due da un kilowatt con la B265 riuscirò andare più profondo rispetto alla B275 perché avrò una forza un impulso molto molto più alto e da questi grafici che vedete qui vedete proprio quanto più forte e quanto quindi più profondo potrò andare tanto di più è ovvio che si parla sempre di una scala logaritmica non è che la B275 arriva a 50 metri e l'altra ne fa 500 no è come per le macchine arrivare a 150 km all'ora bastano 100 cavalli per arrivare a 200 hai voglia di 200 cavalli ma dai 200 ai 220 devi avere 400 cavalli è avanti così cioè ci vuole molta più potenza per fare dei salti molto più piccoli se la B275 fa 200 metri di profondità con la 265 probabilmente riuscirò arrivare anche a 300 metri però non è che faccio 10 volte di più però faccio un 50% in più ecco questo era il video di oggi volevo parlare della potenza forse della potenza alla fine abbiamo parlato molto poco anche perché è ovvio che si sa che una sonda da 1 kilowatt andrà più profondo rispetto a una sonda da 500 watt ma dipende tutto da che sonda andate a scegliere se avete bisogno di andare profondi scegliete sonde con angoli stretti anche perché avere una sonda con un cono largo in alta profondità serve veramente a poco già la 275 rivediamo un attimo l'angolo di radiazione che ha un cono così ampio questo vuol dire a meno 3 dB vedete scritto qua abbiamo 26 gradi di cono noi illuminiamo una zona ampissima allora o le utilizziamo in profondità relativamente basse secondo me fino ai 30 40 secondo me già 50 metri cominciano a essere tanti oppure le utilizziamo in situazioni come viene fatto spesso in America di train in altura dove hanno bisogno di vedere i pesci fino a un massimo di 100 80 100 metri e hanno bisogno di un cono molto ampio e usano l'alta frequenza e non la bassa frequenza perché l'alta è molto meno sensibile alla turbolenza dell'acqua e alle bollicine dell'acqua se io devo pescare 80 100 metri 120 metri un cono così ampio mi serve relativamente a poco riuscirò a vedere magari più target ma non saprò mai se sono sotto la barca o sono spostati anche di 20 metri avere dei target 20 metri di distanza per me per il tipo di pesca che faccio io se pesco per esempio a vertical o a slow sicuramente non è interessante è molto più importante avere un cono stretto in modo da riuscire a 120 140 180 200 metri andare a leggere perfettamente la conformazione del fondo e sapere che i pesci effettivamente si trovano lì dove spero che ci siano un po'